Buongiorno amici di Youtube, ci siamo qui per giocare con la PS Vita a FIFA Football Giocheremo una partita Manchester City contro Marsiglia Siamo stati molto deluti dai, i vostri non commenti Ma siamo stati molto felici di aver già raggiunto 3 iscritti in 2 giorni E vabbè, bandaglia e ciance, cominciamo a giocare Ora giocherà il nostro amico Sean E cominciamo a giocare Dato che la PS Vita forse non vedete bene Siamo andati esauriti in poche ore Speriamo che le due squadre offrano uno spettacolo degno del loro prestigio Balotelli E ormai in zona d'attacco Ho parato troppo presto, l'attacco è sfumato, la madre è sfumata, la scuola è sfumata Balotelli Gioco di passaggio Circa addirittura, la focazione è vista Speriamo di passaggio Ma piazzata con preci sono di assoluta Con la balla può fare da meno tutto quello che vuole Tenta la scivolata Decide di tentare la scivolata Tutta grande la soluzione Secondo gol Milner Interviene l'albitro Circa di controllare la partita Senza entrare in troppi cartesini Circo Ottimo contatto Circo Balotelli Circo In posizione per la battuta del forno Tiro dalla bandierina Battuta davvero male Gli avversari ringraziano Palla respinta da un difessore Si riprenderà con una rimessa dopo che la palla è carambolata sul corpo del giocatore Il giocatore sistema la palla all'interno dell'unito del calcio d'angolo Interviene sulla palla Hanno perso la palla L'esco Il tiro viene bloccato La fronte è scivolata La fronte è scivolata Sfuggia l'intervista